Il salario minimo, la sinistra fa una proposta di sinistra, noi riteniamo che la contrattazione sindacale sia una via migliore ma è un dibattito aperto nel paese, non ci sono quelli che vogliono lo sfruttamento e i nemici dello sfruttamento. C'è una dinamica che anche i sindacati difendono della contrattazione, c'è una discussione politica, così la Shlen è scesa dal pullman del gay pride ed è scesa in mezzo ai problemi della vita reale. Io considero positivo che si occupino del salario e dei lavoratori, finora hanno avuto sconfitte perché non si è capito di che si occupasse la Shlen, almeno adesso abbiamo un tema concreto su cui confrontarci.